zona c neutralizzata zona b persa il nemico conquistato la zona b la zona c è conquistata zona a persa il nemico ha conquistato la zona a munizioni pesanti in vista munizioni pesanti disponibili la zona b è neutrale zona b sicura zona c persa zona b persa il nemico ha conquistato la zona b zona c sicura hai neutralizzato la zona a zona c persa zona a conquistata ottimo il nemico ha preso c la zona b è neutrale il nemico ha conquistato la zona a hai conquistato la zona b l nemico ha conquistato la zona d perciò Zona B, persa Il nemico ha conquistato la zona B Zona A, sicura 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 Zona A, sicura